Buongiorno, oggi procede questo meraviglioso cantico punteggiato da questo ritornello, ma io vi dico. Penso che questa struttura in cui Cristo propone una legge dell'Antico Testamento, della tradizione ebraica, seguita da quel ma io vi dico, sia appunto una struttura molto solenne, molto potente e con anche una carica emotiva davvero forte. Devo dire però che questo brano mi ha messo in difficoltà, perché capisco di non avere le competenze necessarie per parlarne, cioè mi sembra che qui Gesù faccia riferimento a delle tradizioni, a delle leggi ebraiche che io non conosco. Però mi viene forse da fare questa riflessione che con tutti questi, ma io vi dico, sicuramente Gesù voglia presentarsi come colui che porta a compimento la legge, però anche come colui che in qualche modo contestualizza la legge. Quindi mi chiedo quanto molto spesso invece noi ci basiamo su una precettistica molto rigida, quando invece molte volte la precettistica si può evolvere, soprattutto legato alle necessità dei tempi e alla necessità di questo grande organismo che è la Chiesa in cammino. Mi sembra che Gesù abbia sintetizzato questo concetto mirabilmente quando ha detto che il sabato è fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato. Grazie a tutti.